Tanti like per capo bastone, aga gaga gaga. E ci risiamo. Le lucertoline senza vita, sono tornate per rompere i coglioni. Nella giornata di lunedì, infatti, hanno attaccato il servizio di PlayStation Network, mandando a puttane il gioco online, per qualche ora. Il problema è subito rientrato, grazie al tempestivo lavoro della Sony. Subito dopo, i ciccioculoni con la coda, hanno lanciato una nuova minaccia a Xbox Live, scrivendo codesto messaggio. Questa non è una minaccia, ma una promessa. Il 25 dicembre, cioè il giorno di Natale, butteremo giù Xbox Live, per sempre. Aga gaga gaga, peccato che l'attacco DOS, non sia in grado di spegnere definitivamente nessun server, ma solamente di impastarlo per qualche ora, al massimo. Ma proprio quando la storia, sembrava finita qui, entrano in gioco gli Anonymous, incazzati neri. Sì sì, infatti, uno dei membri Anonymous, ha postato un video su YouTube, dove minacciava le lucertoline senza vita, invitandole a smetterla immediatamente con questi attacchi. Ecco alcune frasi, che sono state dette nel video degli Anonymous. Voi avete fatto numerose minacce, contro Xbox Live, e PlayStation Network. Se continuerete ad attaccare la community dei giocatori, agiremo contro di voi. Quello che state facendo, è sbagliato. Non avete un motivo reale, per attaccare il loro server. State portando via il divertimento, a bambini, e adulti. Il vostro unico obiettivo, è vedere quanto lontano riuscite ad andare, prima di essere scoperti. L'FBI vi sta guardando, e vi troverà. Noi Anonymous, ovviamente, aiuteremo le forze dell'ordine. Avete detto che il prossimo attacco, sarà a Natale. Noi non ci fermeremo davanti a nulla, per garantire che non attacchiate più la community dei giocatori. Siete stati avvertiti, noi siamo Anonymous, noi non perdoniamo, noi non dimentichiamo. Mamma mia, anzi, mamma vostra, ci aspetta una guerra allucinante per Natale. Fossi in voi, comprirei le patatine e popcorn, per gustarmi questa epica battaglia. Ovviamente, le lucertoline senza vita sociale, saranno sterminate, e la pace trionferà. Restate in campana, per ulteriori aggiornamenti. A Natale, ci sarà lo scontro finale. Tanti like per capobassone, aga gagaga.